ciao oggi ti spiegherò come andare a risolvere qualunque eventuale problema che tu abbia con ennegan nel caso in cui tu stai avendo una problematica con questa compagnia luce gas come qualunque altra compagnia esistente in italia e nonostante hai contattato il loro servizio clienti o gli hai fatto un reclamo ufficiale e non stai riuscendo a trovare un accordo con loro ci puoi contattare e ti assisteremo per fare una mediazione con ennegan spa siamo specializzati dal 2009 nel gestire e assistere private di aziende contro gli operatori luce gas di telefonia o di internet siamo da sempre dalla parte dei clienti e con tanta passione e con tanta conoscenza del settore ti possiamo aiutare a far valere i tuoi diritti i problemi che potresti avere con ennegan o con una qualunque altra compagnia di luce gas in italia potrebbero essere relativi a conguagli relativi magari a penali per recesso anticipato che non sono legittime nel mercato luce gas in bassa tensione potresti aver ricevuto una fattura di ennegan che secondo te non è quanto avevi stabilito con loro e non stai riuscendo a trovarti d'accordo potresti aver subito una truffa magari da qualcuno che si è spacciato per ennegan mentre effettivamente non lo era o magari qualche call center si è spacciato per loro o qualunque altro tipo di problema che tu stia avendo attualmente con ennegan lo possiamo sistemare dal 2009 siamo preparati per gestire queste problematiche lavoriamo solamente al risultato positivo raggiunto abbiamo recensioni a 5 stelle ovunque nel web per quello che facciamo e per i consigli che da sempre diamo a tutti i cittadini nel link qui sotto ma anche qui in questo link puoi trovare tutti i dettagli del nostro servizio come funziona ed i metodi per aprire la pratica ci puoi contattare anche allo 0571 19 64 248 oppure alla nostra mail info chiocciola broker per l'energia punto it se hai anche una problematica attuale e vuoi farci delle domande commenta pure nel link qui sotto e saremo felici di rispondere ad ogni tua domanda che hai se ti è piaciuto il video metti un like e non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato su tutte le guide antitruffa e per risolvere qualunque problema nei settori delle utenze grazie per avermi ascoltato e ci vediamo al prossimo video a presto ciao